Hashtag Abilitiamo la disabilità è la mostra di arte del textio organizzata dall'associazione Disabili Insieme, ente del terzo settore, associazione sociosanitaria che si occupa di inclusione, nata cinque anni fa sul territorio savese da una grande motivazione familiare. Disabili Insieme accoglie infatti ed assiste ragazzi e ragazzi con disabilità intellettiva e spettro autistico, disabilità sensoriale e motoria. La mostra Hashtag Abilitiamo la disabilità nella sala del gusto a Sava rientra nella mission dell'associazione Disabili Insieme, in quanto non è solo un progetto inclusivo rivolto alle ragazze e ragazze assistiti dall'associazione, nonché ai loro caregiver, ma intende promuovere nella comunità il valore universale della solidarietà. Siamo un'associazione sociosanitaria che è nata da una grande motivazione familiare nel 2016. Accogliamo ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva e spettro autistico, disabilità sensoriale e motoria. E ci occupiamo di inclusione. Infatti la mostra rientra nel progetto dell'arte terapia in occasione della giornata internazionale per le persone con disabilità. Vedrete una mossa sulla tecnica del texture che hanno scelto i nostri ragazzi, perché il texture dà la possibilità comunque di variare anche con vari materiali. Infatti i ragazzi hanno utilizzato alcuni colori a cera, altri colori a pastello. Loro non solo hanno realizzato i quadri, ma hanno realizzato anche le tele. Quindi siamo partiti con il progetto di artigianato e per arrivare poi al progetto di arte terapia ed essere qui appunto con questa mostra 2021 di texture. La mostra hashtag Abilitiamo la disabilità si intraccia in un più ampio contesto di ripartenza, in quanto vuole affermare il concetto che l'inclusione è anche arte. Il progetto interno di arte terapia infatti propone l'arte come un modo per affermare se stessi e per esprimersi, nonché un mezzo comunicativo inclusivo per essere protagonisti del mondo.